Con la stupenda chiusura della stagione 2022 e il 2023 ormai alle porte la caviglia è quasi completamente sistemata ed è finalmente giunta l'ora di allenarsi al meglio Poco tempo fa la Vigor ha dato la possibilità a Meal Killer di fare il test di soglia per avere tutti i parametri necessari e un ottimo allenamento abbiamo detto, perché no? Per fare le cose al meglio ci siamo diretti da cicli Mattio e il titolare Silvio e Mattio ci ha sistemati sulla bici con la messa in sella è un po' di 189 esci pure 186 177 189 149 159 che non faccia 90 gradi a questo punto è una grana perché dobbiamo mettere in bicicletta sull'altra bici lui ora scopriremo se quelle misure vanno anche su questa bici qua se no sono cacchi e devo contrarmiando bici siamo abbastanza in quattro perché qua si è a 78 e qualcosa cerchiamo di girare su il più possibile e quindi di raccogliere il limite da 78 di fuorisella adesso cerchiamo di arrivare a 80 circa se ci stiamo, se no perdo la sella per strada con il pedale però si vedo bene lo vedo abbastanza bene piega il trassi allungati il problema è che guarda troppo forte rispetto a filo veramente? va a mettere il gomito così un attimo ma va a cagare se hai voglia di allenarsi inserite la più forte di lui se va più forte di te allora ma se hai voglia di soffrire che faccia l'ho goduto va bene allora bene ragazzi il chilo ha tentato di vincere stiamo dirigendo la quality training da Paolo Lanfranco a fare i test incrementali tanto te? tantissimo ci siamo due scemi tutti e due con l'agopro che fanno lo stesso identico video ciao ciao tutto bene voi? bene bene 70 70 12, 12 e mezzo, 9 e mezzo, siamo a 2, 2, il killer sta già faticando, io mi sto cacando adesso non ci arriverai te, almeno 3 a 70, vedremo, scusate del killer mi spavento un po' perché ora tocca però si va mettimela bene, scusa posso dire una cosa, a me piace, posso dire una cosa, non arriverai mai ai miei watt, 180 watt sono facili da prendere ma che c'è toccato, quasi, faticone ok fai un po' è buon di parte questa 200 200 tutto a posto fino a tranquillo, rilassato 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9 10 10 11 12 12 11 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A tutta, 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 la parte difficile vince adesso, non è che devi battere solo Nico Allie, 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 non piantati, non piantati 380 c'è, 380 c'è, 380 c'è, 380 giallo, dai, 380 giallo Ne hai anche di più, ne hai anche di più ancora Dai, 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 tieni duro, non mollare, non mollare Dai, credici, fino alla fine, dai, pensa come se fosse in gara Allie, 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 tutta, 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 spingi, spingi Dai, credici, credici Ok, ok, ok Direi che hai fatto anche te un bellissimo test Quindi vi posso definire due stronzi Quelli che proprio mi darebbe fastidio andare in bici insieme Perché non mollano, hai capito? C'è forse i peli questa, non si fanno i peli Ah non è accettabile dai peli Quindi comunque devi tagliare Se mi fai diventare un professionista quest'anno, si Tagliateli così ti faccio diventare un professionissimo Ah ok In Italia ti faccio il mio professionista Ok dai ci faccio un pensierino Ciao Ciao Grazie Il test incrementale è stato davvero devastante Ma ora ho molti dati per fare un allenamento perfetto Se volete farlo sappiate che è davvero mortale E che sfortunatamente siamo arrivati anche alla fine del video Spero vi sia piaciuto Potete lasciare un commento Se vi iscrivete siete grandi Ciao gente Ciao Ciao